Salve ragazzi bentornati in questo nuovo video Oggi, questa mattina, farò un'intera mattinata di giocate con il cecchino Che mi è stato prestato dal mio compagno e vedrò cosa riuscirò a fare Sarà molto interessante Eccolo qua Grazie a tutti Ed eccoci qua con quella che è stata la partita Devo dire che sono stato molto contento di come mi sono giocato questa partita Vedrete poi più avanti che farò dei bei colpi Per essere, diciamo, la mia seconda mattinata con il cecchino Sono stato molto contento di come è andata Approfitto per ringraziare Joel che mi ha prestato anche per questa mattinata il fucile Magari più avanti torneranno altri video Ma adesso per un po' appenderò il cecchino al chiodo Perché comunque oltre a questa partita Nelle altre partite è stato molto difficile riuscire a tirare insieme qualcosa Quindi ero posizionato in difesa dietro questo albero tagliato Che dava una buona copertura E riuscivo a dominare tutto il campo Gli attaccanti stavano avanzando Ero comunque in contatto radio con il mio amico gufo lì sotto E quindi ci davamo una mano Ed ecco qui che si è pronto Si vede avanzare uno dei nemici abbastanza distintamente nell'immagine, il primo colpo gli sono andato molto vicino, ho visto che non se ne era minimamente accorto e quindi ho aggiustato bene la mira per il secondo colpo che è andato a segno. Poi lì alla sua sinistra nella vegetazione si vede questa macchia scura indistinta che era un altro nemico. Quindi un buon inizio con una prima uccisione, dopo questi primi colpi comunque gli attaccanti mi avevano avvistato e avevano cominciato a sparare in quella direzione quindi mi sono spostato leggermente giusto per cambiare posizione. Dal mio nuovo spot intravedo un altro attaccante che non stava arrivando dal sentiero ma da dietro in quella striscia di vegetazione in parte al prato. Adesso nel momento in cui passerò avanti alla parte chiara del prato si vedrà meglio e ero diciamo al limite di distanza con questo fucile, una cinquantina di metri, ho dovuto sparare qualche colpo e inizialmente non avevo capito di averlo preso. In questo momento quando mi risporcerò per controllare vedrò che ha alzato la mano per il fatto che ha colpito. A questo punto eliminati i primi due nemici mi sposto di nuovo avanti dove ero prima. Non lo vedo. No vabbè tranquillo. L'ho visto. Inoltre mi rendo conto di aver finito i venti colpi del caricatore, ma rianche qualcuno meno perché non era proprio pieno, e faccio un veloce cambio. Inoltre mi rendo conto di aver finito i video, ma rianche qualcuno meno perché non ero più i video. Inoltre mi rendo conto di aver guardato il fatto che non ero più i video. Inoltre mi rendo conto di aver guardato più i video. spara comunque che non posso farti molta copertura il mio compagno decide di indietreggiare qualche metro per controllare la bandiera che era un pochettino più a sinistra riesco a intravedere un altro attaccante era abbastanza lontano qui non si vede molto bene era là dove c'era quella persona presa e gli sporgeva solo la testa e quindi quindi con quei colpi non l'ho colpito l'ho visto adesso in cima al sentiero deve avanzare posso provare a prenderlo da sopra io è là dove c'è johnny preso praticamente mi informano che quello è l'ultimo attaccante rimasto e quindi provo a fare un'azione per tentare di aggirarlo dal sopra mentre i miei compagni lo tengono occupato avanzo un bel bel pezzo lungo il versante del bosco non sono riuscito a intravederlo prima a causa della vegetazione e a questo punto gli sono arrivato quasi dietro dovrei solo un po' riscendere e dovrei riuscire a vederlo ma viene colpito dai miei compagni il mio compagno joel mi vede in cima alla montagna e mi chiede giustamente dove cavolo stava andando volevo prenderlo bene ragazzi questo video è finito come sempre vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo col prossimo